Nella notte è arrivata l'indicazione via sms del nuovo presidente che è Matteo Orfini, a cui faccio gli auguri, credo che mi asterrò anche per i metodi che vengono utilizzati, non è possibile che la discussione avvenga in ore notturne, che avvenga sulla base di una decisione che la maggioranza prende sentendo una porzione piccolissima della minoranza.